Parte nei prossimi giorni nella città di Salerno, in modo particolare, sulla direttrice dorsale lungomare dalla villa comunale fino a piazza Monsignor Gasso per un'area di 5 chilometri, un intervento straordinario di deblattizzazione voluto dall'Asla. Si tratta di un'attività integrativa e straordinaria che l'azienda sanitaria ha comunicato all'amministrazione comunale con l'intento di contenere la presenza della periplaneta americana, una particolare blatta di grosse dimensioni fino a 4-5 centimetri che, a causa delle condizioni climatiche degli ultimi anni, si è insediata negli impianti fognari. L'attività verrà realizzata con un metodo innovativo, ovvero l'ausilio della termofumigazione che consente di saturare con un gas le condotte principali e secondarie determinando la morte di tutte le blatte. L'attività si svolgerà di notte a partire dalle 23 e andrà a sommarsi agli interventi già avviati nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale di Salerno. Assessore, c'è una novità importante che riguarda la deblattizzazione. La città in più quartieri lamenta la presenza di queste blatte. L'Asla ha dato una buona notizia. Sì, noi abbiamo dibattuto su questo argomento per circa un mese e mezzo anche per un discorso di competenze. L'Asla ci ha comunicato, a noi fa molto piacere, che ha intenzione di fare un'azione straordinaria soprattutto per combattere una tipologia particolare di blatta che si è insediata negli ultimi anni negli nostri impianti fognari. Ci hanno comunicato anche la tipologia di intervento, che è un intervento innovativo che deve ovviamente riguardare tutti i condotti fognari. Si tratta sostanzialmente di un intervento che va ad uccidere tutte le blatte presenti in quel momento nei condotti fognari con un gas termico che viene messo nelle fogne. Noi stiamo organizzando anche con Salerno Sistemi gli interventi perché l'Asla ci siede il supporto per l'apertura delle fogne, quindi in queste ore stiamo organizzando il tutto per poter fare in modo che questa attività si possa fare quanto prima. Riguarderà tutta la città? Riguarderà principalmente le aree della città dove è molto presente il problema, quindi tipicamente le dorsali principali della città per 5 km in estensione da un capo all'altro e su due direttrici, quella lungomare e quella interna. Ovviamente l'intervento riguarda anche le diramazioni delle fogne, quindi il gas che viene spruzzato in queste tubature ovviamente andrà ad invadere tutti i condotti fognari, quindi questa è la tipologia tecnica che ci hanno spiegato e noi stiamo dando tutto il supporto necessario affinché l'Asla possa agire quanto prima. Si sommerà l'intervento che già era stato annunciato dal Comune? Sì, noi nel frattempo avevamo individuato un po' di risorse da mettere a disposizione del settore ambiente perché trattasi di un intervento ovviamente di competenza dell'Asla, ma noi ad integrazione avevamo messo a disposizione 100.000 euro e il settore ambiente stava avviando le procedure, sta avviando le procedure per integrare questo intervento, magari non per combattere questa tipologia di blatta, ma quelle classiche diciamo che vanno a insediarsi soprattutto nelle catitudine stradali. Grazie. 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 Grazie.